C'è un'occasione sciupata Fino al 2-2 è stata una partita combattuta Poi è andata così, ci faremo alla prossima Troppi errori individuali, sentivate troppo la partita O comunque è da ammettere la superiorità degli avversari? Sicuramente sono una squadra preparata Noi siamo giovani, abbiamo iniziato da poco Abbiamo tanta voglia di imparare Vedremo come andrà a finire il campionato Ce la batteremo fino all'ultimo Allora, questa sera ha mostrato agli artigli il Città Bosca Beh, faccio i complimenti ai miei ragazzi, al mister Sì, è stata veramente una bella partita combattuta Poi naturalmente è uscito fuori la superiorità di Marconi E il nuovo acquisto cresce Ma complimenti a tutti i ragazzi veramente Perché hanno disputato veramente un'ottima partita Appunto Marconi è stato veramente l'uomo in più di questa sera E ha dimostrato comunque la sua squadra Di avere nella forza comunque il collettivo E anche su tutti questi faccio i complimenti al mister Che è riuscito a mettere su una squadra Marconi si sa è un giocatore di altre categorie Siamo fortunati ad averlo E speriamo che continui così Grazie a tutti